Bene ragazzi, bentornati all'estazione del contest della chiave di Tau Track Simulator Il contest è slittato di un giorno perchè ieri non ho avuto tempo per registrare, quindi lo farò oggi Bene, ci troviamo su suadeo.ch Cosa facciamo? Andiamo a prendere questo link che già ho sottolineato io Facciamo copia E lo andiamo a incollare su ID video Numero vincitori 1 E andiamo a cliccare il bottoncino chi è il vincitore adesso Let's see what's the winner now, ok? Aspetta un momento, vediamo L'Oster Punch è il vincitore, andiamo a vedere chi è Per il profilo Questo cane non esiste Come non esiste? Andiamo a vedere nei commenti L'Oster Punch Ecco qua L'Oster Punch hai vinto Quindi ti invierò la key per messaggio privato E ci vediamo dopo Ciao ragazzi Seguitemi nei miei prossimi video E ci vediamo l'anno prossimo Ciao